Fioriera da balcone, Ikea ha la soluzione per ogni spazio. Ikea presenta Daxius, un piedistallo per piante che permette di sfruttare al meglio lo spazio del tuo balcone, aggiungendo un tocco di verde senza ingombrare. Grazie alla sua struttura verticale e ai ripiani, con Daxius puoi collocare piante di diverse dimensioni in modo elegante e pratico. Realizzato con materiali resistenti come il bambù, Daxius è leggero e facile da spostare per adattarsi alle esigenze delle tue piante. Anche durante l'inverno puoi utilizzare Daxius all'interno della tua casa, rendendo il soggiorno o la cucina più verde e accogliente. Daxius. 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 Daxius.